Senti, Ipsy, ne abbiamo sentite di storie sul tuo conto, ma quella che più ci ha stupiti è la faccenda dell'orchestra degli animali. È vero che sei riuscito a far cantare assieme buoi, ocche e gatti? Certo! Anzi, voglio farvene sentire l'effetto. Ascoltatemi bene ed imparate l'emotivo. Perfetto! E adesso dividiamo gli strumenti. Il primo gruppo, i buoi. Il secondo gruppo, le oche. Il terzo gruppo, i gatti. Ed ora insieme, ma attenti al direttore d'orchestra. Il terzo gruppo, i buoi. Il terzo gruppo, i buoi. Grazie a tutti.